Bene, come è stato detto, oggi abbiamo il grande dono di avere con noi un testimone d'eccezione che è stato Aquila Randagia e che ha partecipato in prima persona, è stato un protagonista dell'Oscar, insieme a Don Ghetti, Don Bigatti, Don Giussani, ha collaborato a realizzare documenti falsi, a organizzare gli espatri clandestini, a pubblicare e diffondere il giornale che si intitolava Il Ribelle, un giornale clandestino. Dopo la guerra Don Giovanni è stato insegnato di alcune onoreficenze, medaglia d'argento della resistenza, è stato riconosciuto giusto dalla comunità ebraica di Milano, e è anche diventato poi cappellano nelle Fiamme Verdi. Non ama che vengano ricordate le sue onoreficenze, oltretutto sarebbe anche Monsignore, però lui preferisce il titolo di Don. Lascio a lui la parola Don Giovanni Barbaresco. Fra qualche giorno ho 92 anni. E sono felice di essere qui, felice di poter parlare a voi, perché il fascismo c'è ancora e dobbiamo resistere al fascismo. Il fascismo non è solo una dottrina o un partito, una camicia nera o un saluto romano. Il fascismo è un modo di vivere, è una mentalità, è a rendersi per amore del quieto vivere o per amore di una carriera. Nel fascismo la verità non è amata perché è verità, ma è falsata, ridotta, tradita, resa strumento per i propri fini, personali o del proprio gruppo. E' una mentalità alla quale si tiene più all'apparenza che all'essere. E' una realtà nella quale amiamo ripetere frasi imparate a memoria, sentite dagli altri, non personalmente assimilate, e gridarle queste frasi tutti insieme facendo un coro che vorrebbe sostituire l'appoggio del mancato giudizio critico con una emotività di un'adesione psicologica e fanatica. A fare di noi persone libere non saranno mai le istituzioni, ma solo noi stessi. Ecco perché, continuando il discorso delle beatitudini, non avrei paura ad affermare, beato colui che sa resistere. Se devo dirvi di me, della mia memoria, penso alla mia famiglia. Papà non è mai stato fascista e non si è mai iscritto al partito fascista. Per questo ha sofferto e ha patito anche nel lavoro. Se voi pensate che su migliaia di professori universitari, soltanto undici persone hanno detto di no all'iscrizione al partito, perché avrebbero perso il posto e lo stipendio. Contro migliaia, solo undici hanno detto di no. E io ricordo queste persone come ricordo il mio papà, quando nel dicembre 1936 tutte le donne sono state invitate dal regime fascista a portare l'oro alla patria, la loro fede nuziale portata alla patria, perché stavamo combattendo per la conquista di Addis Abeba. papà a tavola ha detto alla mamma, tu quella fede non vai a portarla. Ed era pericoloso, perché si era spiati, osservati, questa è andata, quella non è venuta, quella... il coraggio della mamma di non andare. Ecco, sono queste le formule di educazione che io ho avuto. Sono prete, ma non ho paura a dirvi che non mi interessa niente diventare santo. io voglio diventare un uomo libero. Se le due parole santità e libertà coincidono, mi va bene, ma preferisco dire voglio diventare un uomo libero. libero davanti a qualunque scelta. Ecco, per esempio, a voi faccio una domanda. Sei certamente religioso, ma ti domando, sei anche credente? Per diventare credente occorre la tua libertà, la tua adesione, il tuo sì personale. Perché essere credenti, scusate l'esempio, non significa solo che Dio ha il telefono, ma significa che Dio mi telefona. io parlo con Dio e Lui parla con me. Se non è così, siete tutti religiosi, ma non siete ancora credenti. Ed è una strada, è un percorso che dovete fare per arrivare alla vostra libertà. la libertà del tuo essere, la libertà della tua persona, la libertà dei tuoi gesti, la libertà delle tue parole. Quante parole vengono solo dette perché ripetute, perché altri fanno così. e si cerca di dirle tutte insieme perché facendo coro quella parola diventa verità. Ma chi te l'ha detto? La verità è ciò che tu cerchi, è ciò che tu conquisti, è ciò che tu fai. questa è la libertà. E se volete che vi racconti il momento più difficile della mia vita partigiana, cappellano delle fiamme verdi, lasciatemi ricordare quel giorno in cui eravamo dodici o tredici in un rifugio sopra Darfo e ci viene segnalata la possibilità che una squadra di SS arrivi a noi, allora capiamo che dobbiamo fuggire, dobbiamo spostarci, ma con noi c'era un ferito e quel ferito viene da me cappellano, mi porta la sua pistola e mi dice per favore uccidimi, uccidimi perché se loro mi prendono mi fanno parlare, mi torturano e io non voglio tradire voi amici uccidimi e la pistola in mano, ecco quel momento è il più difficile della mia vita partigiana, assieme abbiamo deciso di costruire una barella e ci siamo portati dietro il nostro ferito salvando anche lui. Momento di decisione, momento di libertà, momento nel quale qualunque codice civile ti avrebbe permesso come estrema difesa di uccidere quella creatura, ma era un uomo e l'uomo va sempre rispettato soprattutto quando ha bisogno, quando ti chiede aiuto. Allora volendo parlare delle acquile randagie sono un'acquile randagia, ho fatto la mia promessa scout il 27 dicembre 1943, credo di essere l'ultima promessa che il mio capo Giulio Uccellini Kelly già è stato citato, ha ricevuto. Promessa nella quale mi sono impegnato ad aiutare gli altri in ogni circostanza. Ecco perché ho salvato gli ebrei, quanti, tanti, nel modo più buffo è possibile e anche nel modo tragico. Persone fatte passare sui valichi di montagna e persone fatte passare dopo aver comprato è la parola vera, comprato sia il fascista sia il tedesco che erano ai limiti del confine. Ma è bello rischiare la vita così, è bello rischiare per dare un senso al tuo rischio. Se ho qualcosa da dire alla società attuale è che non rischia più niente e anche ai politici voglio dire per favore sappiate rischiare e con la parola rischio intendo giocare voi stessi amare più la tua libertà che la tua carriera amare più la tua libertà che il tuo stipendio perché un uomo è uomo solo se è un essere libero altrimenti non è un uomo il tuo potere il tuo stipendio tutto può finire ma tradire la tua libertà mai forse hai capito che nella vita comune si tratta di passare dalla impressione al giudizio critico voi stamattina siete qui perché vi ha accompagnato la vostra scuola la vostra direzione didattica sono atti condizionati fatelo diventare un atto libero dentro di te prova la gioia di essere qui per ricordare il giorno della Shoah per ricordare lo dico di me i miei morti sono qui per quello tremante con fatica parlo ma sono qui per ricordare i miei morti quanti ne ho avuti e ne ho visti vicino a me cadere fucilati e io davanti a loro potevo solo tacere si tratta di passare dalla impressione dalla emozione al giudizio critico per esempio nelle tue preghiere è un prete che ti parla sei un uomo libero o sei condizionato dalla liturgia dall'abitudine dal fatto che tutti fanno così non hai mai pregato con le tue parole non hai mai inventato una preghiera ricordo il mio amico don Carlo Gnocchi tenente cappellano in Russia lui una volta in predica ha detto ai suoi soldati bestemmiate pure bestemmiate pure purché ogni volta sia una bestemmia da voi inventata una parola non ripetuta perché sentita da altri e mi raccontava don Carlo che dopo un po' di tempo dopo qualche giorno va da lui un soldato e dice io ho inventato una bestemmia e don Carlo tranquillo ripetela Dio prete era il massimo che lui poteva dire di Dio il massimo del disprezzo il massimo dell'offesa ecco bestemmia è una bestemmia o è ve lo dice un prete una preghiera detta da un uomo arrabbiato forse è solo così forse è solo ripetuta forse è solo gestita dall'ambiente dalla situazione passare dalla impressione al giudizio critico ma un'altra strada un altro passo c'è da fare dalle parole abituali e dai gesti ripetuti alla creatività dei tuoi gesti delle tue parole la creatività pensa alla ragazza alla quale vuoi bene al ragazzo al quale vuoi bene pensa cosa vorrebbe dire essere creativo nei tuoi gesti nelle tue parole e non essere solo ripetitivo perché l'amore esige libertà se non c'è libertà non c'è amore l'amore è una strada da percorrere sempre vale per voi studenti vale per i vostri professori vale per i vostri docenti vale per chi celebra 20 30 40 anni di matrimonio o sono gesti liberi o non sono gesti d'amore essere capace di passare dal rimorso al pentimento il rimorso te lo suggerisce l'ambiente la società il modo abituale di vivere rimorso per esempio credo che siano ben pochi quelli che avvertono come peccato il non pagare le tasse la società dice che va bene così ma il tuo giudizio tu che giudichi tu che dici tu che decidi ecco la persona ieri in chiesa festa della famiglia ho detto vi auguro di educare delle persone che i vostri figli diventino persona cosa vuol dire essere persona nella tua classe nel tuo studio cosa vuol dire comportarti da persona io non voglio dire che copiare sia un peccato no è un peccato farsi prendere è diverso però il tuo giudizio puoi davvero consegnare col foglio al tuo professore e dire ecco il mio tema è tuo o hai copiato è chiaro che questo vale per ciascuno di voi in ogni tempo e in ogni momento nella tua vita di famiglia ecco allora che anche nella tua società nel tuo ambiente tendere a essere un uomo libero libero davanti ai compagni libero davanti alla donna o all'uomo a cui hai voluto dire ti voglio bene ma siete effettivamente per me un po' meravigliosi non vi capisco quando dopo i primi incontri avete il coraggio di dire quella donna è mia è mia ma scherziamo e che valore dai alla parola mio quando usi quella parola è tua la sua storia è tua quello che lei ha passato mi è più facile essendo un uomo parlare al femminile di lei ma vale lo stesso se detto il maschile l'amore esige la libertà dove non c'è libertà non c'è amore e dobbiamo stare attenti perché oggi fare politica sembra diventato il mezzo per raggiungere un posto il mezzo per fare carriera il mezzo per comandare sugli altri ma è questa la finalità della politica certamente no è il bene comune notate il bene comune non il bene tuo non il bene del tuo partito non il bene del tuo gruppo il bene comune e quanti sono i politici quelli che siedono in parlamento lo so e anche in senato lo so e spero che presto quel numero diminuisca ma non devo entrare in politica però me lo auguro anche se tutti lo promettono e nessuno lo fa capite allora il significato profondo della parola libertà e lasciatemi finire vi chiedo un favore lasciatemi finire con una poesia che io ricordo perché ha fondato la mia giovinezza e ha fondato la mia ricerca di libertà il poeta immagina di essersi perso nel bosco in un bosco che è la vita se perso e lui non sa più la strada per venirne fuori quando si fa avanti una vecchietta cieca e gli dice io so la strada io ti accompagno fuori quella vecchietta cieca che incontrai la notte che me spersi in mezzo al bosco mi disse se la strada non la sai te ci accompagno io che la conosco se c'hai la forza di venirmi appresso e tanto in tanto ti darò una voce fino là in fondo dove c'è un cipresso fino là in cima dove c'è una croce parentesi cipresso la morte croce il dolore sono i due soli le due sole difficoltà davanti a una ricerca di libertà e di fede di fede di tanto in tanto te darò una voce fino là in fondo dove c'è un cipresso fino là in cima dove c'è una croce e Dio risposi sarà ma trovo strano che me possa guidar chi non ce vede la cieca allora me piò la mano e sospirò cammina era la fede per amare la libertà bisogna credere di poter diventare una persona libera credere perché la libertà dell'uomo non si dimostra mi spiace Aristotile neppure tu ci sei riuscito hai tentato ma non ci sei riuscito la libertà è un valore in cui si crede ecco io vi auguro di credere nella libertà e di appoggiarvi a quella voce che di tanto in tanto ti darò una voce e Dio risposi sarà ma trovo strano che me possa guidar chi non ce vede la cieca allora me piò la mano e sospirò cammina era la fede grazie questo è il battimani non libero adesso per favore fate un battimani libero grazie grazie Grazie.